La prossima settimana il Principe Ferri parteciperà a un altro impegno da solista a New York. Tuttavia, l'evento è destinato a coincidere con un evento chiave nel calendario di Re Carlo. La prossima settimana il Principe Ferri parteciperà a un altro impegno da solista a New York. Tuttavia, l'evento è destinato a coincidere con un evento chiave nel calendario della famiglia reale. È stato confermato che il Principe Ferri tornerà a New York il 4 dicembre, alla New York Times Deal Book Conference per parlare all'evento. Lo stesso giorno, Meghan Markle dovrebbe partecipare al Palio Norfolk Gala 2024, dove l'amico della coppia, Tyler Ferri, riceverà il Palio Norfolk Award. Secondo il Mirror, la tempistica degli eventi è stata messa in discussione ancora una volta, poiché i due reali stanno conducendo impegni lo stesso giorno in cui Re Carlo riceverà l'emiro dello Stato del Qatar, sua altezza allo sceicco Tamim Bin Ahmad Altani, per una visita di Stato di due giorni dal 3 al 4 dicembre. Sarà anche il primo impegno del genere a cui parteciperà la principessa Kate, dopo la diagnosi di cancro, poiché è pronta a salutare l'emiro e sua altezza, la sceicca Joacher, nella loro residenza, per conto del re e quando arriveranno. L'ultima volta che il principe Ferri è stato a New York a settembre, è stato impegnato da solo per supportare varie organizzazioni benefiche e aziende tra cui African Parks, THLO Trust, e The Diana Award. Meghan Markle, nel frattempo, è stata avvistata a un gala a sostegno dell'ospedale pediatrico di Los Angeles e ha anche partecipato separatamente a un evento di benessere digitale. Arriva mentre la coppia ha fatto scompigliare le lingue con una serie di apparizioni pubbliche sempre più separate negli ultimi mesi da quando hanno intrapreso un tour congiunto in Colombia in estate. Nonostante le recenti apparizioni da solisti, la coppia è in programma di ospitare entrambi Winter Invictus Games nel febbraio 2025, e Meghan Markle è una convinta sostenitrice dell'iniziativa benefica del marito fin da quando hanno iniziato a frequentarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.